Buongiorno professore. Oggi abbiamo una mail un po' particolare. Cioè? Già il titolo. Orco 2, ma oh... Dall'espressione direi necropirata di Orione. Quasi. Adolescente di tradate, Varese. Chi ci scrive è il Cresta, 21 anni. Bella vecchio, credo che si riferisca a lei. In quanto prof ti schifo, ma in quanto esperto di roba fica ti schifo meno. Detto in parole pese, c'ho un complotto. Mi stanno per segare alla matura per la terza volta. I prof c'hanno l'odio. Può essere che mi tengono prigioniero tipo sperimenti umani? Mi sembra un'ipotesi verosimile. Ma scusi, bocciato tre volte, vede come si esprime. Il soggetto manifesta chiare disfunzioni dell'apparato cognitivo e linguistico. I tipici effetti collaterali della sperimentazione umana. Scommetto che parla anche di somministrazioni di sostanze, farmaci. Si scrive che all'intervallo i compagni lo costringono a fumare droghe nei bagni, ma mi sembra una situazione abbastanza normale. Che tipo di droghe? Il Cresta qui parla di gadduzzi, sifoni, bong, cilotti a tuono e in situ estreme da ripiglio alcune guaste. Quindi lo tengono in uno stato di semi-ipnosi allucinopatica. Vede che il quadro incomincia a delinearsi. Anche i compagni fanno parte del complotto. L'intera scuola che complotta contro il Cresta, ma scusi, che senso ha? Deve essere un ragazzo molto importante. Forse un'antica profezia lo individua come salvatore della galassia. Il Cresta? Salvatore di una galassia? La storia ci racconta di galassie salvate da muffe senzienti. Con le profezie non si discute. No, non mi permetterei mai, però nel caso del Cresta mi sembra... No, 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 cosa fa? Cresta, non credere alla ragazza qui e non credere a tutti quelli come lei. Se il tuo destino è salvare la galassia, credici. Miliardi di miliardi di miliardi di vite dipendono da te. Devi crederci un botto di brutto, Frey. Per favore. Va bene, ammettiamo che si tratti di un complotto. Cosa può fare il Cresta per salvarsi e per superare la maturità? È presto detto. Risvegliare il suo potere latente, organizzare una ribellione, scoprire chi c'è dietro il complotto, scoprire chi c'è dietro quello dietro il complotto, mettersi lui stesso lì dietro, se è possibile morire e resuscitare, fondere la sua coscienza con il pianeta e quindi superare la maturità in scioltezze. Oppure? I bigliettini. Alla prossimo!